Il campo Rom di Gioiano ci sono sempre questioni aperte, lei che cosa pensa di fare? Io sono molto preoccupato, perché è una situazione incandescente, vedo tanta preoccupazione nel territorio, tra le associazioni, sui diritti umani, sulla vivibilità, sulla convivenza all'interno di un territorio, la situazione è molto complicata, io non ho una competenza sul campo Rom di Gioiano, men che mai come sindaco di Napoli, ma nemmeno come sindaco della città metropolitana, però ho chiamato il prefetto, ho illustrato la mia preoccupazione, credo che possa essere giusto e doveroso convocare anche un comitato metropolitano dell'ordine della sicurezza pubblica in cui affrontare questa situazione, perché poi può diventare una situazione ancora più incandescente e pericolosa, in quella sede confrontarsi col prefetto, col sindaco chiaramente in primo luogo di Giuliano e io posso dare anche un contributo sul punto come sindaco metropolitano, perché credo che è un tema che giustamente coinvolge un territorio vasto, quindi c'è molta preoccupazione e credo che il prefetto coglierà questa richiesta, perché credo che sia opportuno un confronto anche in una sede istituzionale.